Grazie per essere venuti, grazie per il lavoro che svolgete. Vi ringrazio perché avete seguito peraltro le nostre vicende in questo anno che è stato molto denso di iniziative e di fatti che hanno riguardato l'attività di governo e naturalmente anche l'attività legislativa. Dobbiamo definire almeno tre disegni di legge, uno è quello dell'esercizio provvisorio sul quale potrà esserci qualche piccola novità, poi c'è quello dei ticket sanitari e poi c'è il tanto controverso e discusso disegno di legge di stabilizzazione di una piccola fascia residua di precariato che è stato più volte affrontato e anche qualche volta rimaneggiato. Sapete bene che abbiamo presentato il bilancio che dovrà essere rivisto alla luce dell'ultima manovra e ci prefiggiamo, visto che l'esercizio provvisorio ha la durata di due mesi, di approvarlo entro il mese di febbraio. Fondamentale sarà ovviamente per questo attempimento una serie di confronti che dovremo avere con i vari rami dell'amministrazione del governo centrale relativamente ad alcuni punti da chiarire. Alcuni riguardano la cassa, ritardano ad arrivare ad esempio oltre un miliardo di euro soltanto per quanto riguarda la sanità. 600 milioni di premialità legati al rispetto del piano di rientro, un po' di più invece circa le famose tre rate del mutuo che sono state avallate dal Cipe quando ancora il ministro delle regioni c'era fitto. E poi il tema più delicato e importante attorno a cui ruota la quadratura dei conti che è quello del mancato rispetto di una norma finanziaria che prevedeva e prescriveva che con l'aumentata partecipazione della regione alla spesa sanitaria si doveva al tempo stesso prevedere una corrispondente e simultanea entrata per la regione in termini di accise petrolifere. Ovviamente la prima delle due condizioni è stata rispettata, la seconda invece ancora attende di essere definita e di essere autorizzata. Ci auguriamo che, anche se non sarà facile, da parte di questo governo comunque si faccia un discorso sulle accise magari contestualmente ad un altro punto che sarà uno dei punti che tratteremo il 27 con Catricalà mi auguro che nella porta accanto ci possa essere il Presidente del Consiglio che lo ha delegato a trattare questi punti, dico sarà il punto fondamentale insieme a quello relativo al federalismo. Questo per dirvi degli appuntamenti che abbiamo anche nel periodo tra Natale e Capodanno, così come tanti altri appuntamenti vi hanno visto attenti alle cose che si sono fatte, e soltanto negli ultimi giorni, quasi nelle ultime ore, citare alcuni provvedimenti fondamentali come la legge sul social housing, quella sugli interventi in agricoltura o la tanto attesa legge sulla istituzione di un unico ente che si occupa di sviluppo industriale, credo che siano tre appuntamenti importanti che noi abbiamo mantenuto. Per quanto riguarda l'anno prossimo, sono certo che un punto non potrà essere l'uso, abbiamo elezioni amministrative, quindi comunali ma anche provinciali fissati per il maggio-giugno prossimo e prima di quella data si dovrà affrontare il tema di una riforma che ci ha visto proporre la istituzione dei liberi consorsi prima di tanti altri. Ora ribadiamo l'importanza della insostituibilità dell'ente intermedio. Avevamo previsto in anticipo che gli organi di governo fossero individuati e scelti con elezioni di secondo grado. piuttosto che con l'elezione diretta come avviene fino ad oggi. Mentre in quanto a poteri, noi nella nostra legge prevediamo, specie in vista di un sovraccarico ulteriore di poteri per la regione quando il federalismo dovesse passare, di assegnarne alle province altri e ancora più importanti. Se pensiamo soltanto alla formazione, ad esempio, professionale, piuttosto che alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, ci rendiamo conto che non si tratta sicuramente di una cosa da niente. Un disegno di legge che è finalizzato a istituire i liberi consorsi che prendono il posto delle province, ma che soprattutto ha come punto fondamentale e più importante il decentramento di potere e funzioni nei confronti dei comuni che poi chiaramente a loro volta organizzandosi in liberi consorsi fanno esercitare all'ente intermedio una parte di queste funzioni che numerose riteniamo che la regione debba delegare mantenendosi prevalentemente quella capacità strategica, di programmazione e poi di controllo che dovrebbe poter esercitare sicuramente meglio e quasi esclusivamente. Questo per dirvi ovviamente del lavoro e dell'impegno che vi ha visto protagonisti e che sicuramente vi vedrà attenti a comunicare ai cittadini anche queste iniziative. Quindi insieme all'augurio e ovviamente la gratitudine per quello che fate. Grazie a tutti.